Il cani di razza d'ogo argentino il cani ha una femmina adulta di cinghiale che una volta sfinita viene bloccata dagli stessi allevatori per permettere ai cani di continuare l'attacco. Il dogo argentino è un cane selezionato nella prima metà del Novecento in Sud America per cacciare cinghiali e puma. Caratterizzato dalla grande potenza fisica è pacifico con gli esseri umani ma è altrettanto spietato con quelle specie che ritiene prede.